margherita e il super hamburger buongiorno margherita non vedevamo l'ora di tornare nella tua cucina cosa stai cuocendo nel forno? sono patate? potremmo pensare a qualcosa da cucinare che ci stia bene le patate devono rimanere in forno per almeno 40 minuti abbiamo tempo sai cosa sarebbe divertente? un bel panino con hamburger così avremo una cena americana vediamo un po' ci serve un hamburger un panino qualche foglia di lattuga un pomodoro qualche fettina di formaggio e margherita lo vogliamo il cetriolo? no ho capito niente cetriolo bene cominciamo prima di tutto dobbiamo tagliare a metà il panino poi mettiamo l'hamburger in padella e mentre aspettiamo che sia cotto ci possiamo occupare delle altre cose prendiamo la lattuga e il pomodoro e li laviamo bene l'hamburger è quasi cotto che bello! ci vuole davvero poco prendiamo la lattuga e la disponiamo sopra al primo strato del nostro panino poi prendiamo l'hamburger e ce lo mettiamo sopra adesso una fettina di formaggio e una di pomodoro sì! brava margherita proprio in questo ordine ma è uno splendore credo però che manchi qualcosa vogliamo mettere un po' di olio per inumidire il pane brava margherita c'è il tuo ketchup fatto in casa che bella idea fantastico ora sì che questo hamburger è diventato un super hamburger ecco che sono pronte anche le patate è tutto bellissimo alla prossima puntata alla prossima ricetta ci divertiremo tantissimo ciao